Buonasera e benvenuti al salario del Ristorante Le Calandre. Il Ristorante Le Calandre è un Freestyle Michelè, un ristorante in San Melo di Rubano, due chilometri al nord di Padua, e questo è il salario. In il salario abbiamo 15.000 battaglie e 1.000 labelli, diventati da vino rosso e bianco. 60% di vino italiano e 40% di francese. Questa mattina presento 3 vino rosso, uno della mia regione, uno dei miei vini favoritosi della Tuscania e uno dei Burgundy. Il primo vino è un classico, probabilmente il migliore vino rosso dal Veneto, Amarone della Valpolicella. La Valpolicella è posizionata nella parte del nord della Verona, fatta con tre indigenze, Corvina, Molinara e Drondinella. Molto particolare perché le grazie, dopo il Vintage, resta seco per 4 mesi. Dopo la vinificazione, il vino resta due anni in Big Barrel. È molto profondo, concentrato, round, velvete, molto buon vino. Il secondo vino viene da Tuscany, è un style Bordeaux, è uno dei miei favoritosi della Tuscany, di Giorgio Primo, di Fattoria La Massa, 2009. Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Molto silky, molto buon vino. Il terzo viene da Burgundy, è un grande crudo, Claude Laroche, di Huber Ligné, 2002. È uno dei miei favoritosi Pinot Noir. Claude Laroche è una piccola grande crudo, posizionata in Moret-Saint-Denis e è davvero qualcosa di incredibile. Benvenuti a Le Calandre e spero che ci vediamo in breve.